...di Simic che si è confermato ancora una volta dall'altezza. Molto contento, molto contento delle prestazioni perché stanno dimostrando, si allenano con noi da inizio dell'anno, li stiamo seguendo con molta attenzione e hanno due caratteristiche importanti, chiaramente hanno talento, hanno qualità, ma soprattutto hanno dei bellissimi atteggiamenti, grandi lavoratori, molto disponibili, molto umili, quindi contento della loro prestazione, una serata giusta, volevamo passare il turno, volevo preservare un po' i giocatori un po' più stanchi, un po' più cariamando infortuni, che hanno avuto un po' di influenza in questi giorni e quindi è andato tutto bene. Buonasera, si parla spesso di vice Giroud anche sul mercato, però questo Jovic sta rispondendo presente, quindi la domanda è, siamo stati un po' tutti cattivi nel giudicarlo fino ad ora? No, non lo so, per me Luca ha dei grandi mezzi, tecnici, fisici, chiaro che ha sofferto tanto per il fisico che ha la mancata preparazione estiva, ci ha messo tanto per recuperare, anche perché quando provavamo a forzare un po' sulla preparazione fisica accusava sempre qualche piccolo problema che ha rallentato, adesso sta bene, è un giocatore forte, è un giocatore forte che ci deve credere perché è un giocatore che sa giocare bene lontano dall'area, ha qualità dentro l'area e quindi io sono molto contento di lui, ma voglio pretendere ancora di più perché credo che il suo livello possa essere alto. Ciao Stefano, ha sorpreso un po' l'entrata di Leao perché la partita era già un po' indirizzata, però viceversa è entrato con tanta voglia, voglia di scrollarsi addosso qualcosa. No, volevo dare un po' di minutaggio a chi aveva giocato domenica, sabato, senza affaticarlo troppo, credo che 20-25 minuti, come per Cristian fosse il minutaggio giusto per invece dare ritmo. È meglio giocare che allenarsi, se non avessero giocato si stavano allenando adesso, quindi meglio così, in più ha fatto gol, Cristian è entrato bene, quindi stasera solamente sensazioni positive, ma è chiaro che adesso l'obiettivo è domenica perché dobbiamo continuare a provare a far sì che questo momento possa continuare il più lungo possibile. Prego. Ministro, buonasera. Buonasera. Resto su Leao e su Leao e Pulisic, vi chiedo quanto hanno fatto piacere gli applausi, i cori dello stadio per Leao dopo quello che era successo, secondo me, meritatamente e ingiustamente sabato e poi, non lo so, qualche prova di 4-2-3-1 nel finale ha voluto provare qualcosina anche da questo punto di vista tattico? Grazie. I nostri tifosi si contraddistinguono sempre nei momenti delicati e difficili e hanno dimostrato tanta sensibilità invece di cercare di stare vicino a un giocatore che forse era stato un po' fischiato domenica scorsa, quindi tanti complimenti ai nostri tifosi che non ci fanno mai mancare il loro sostegno, sono situazioni importanti perché l'aspetto mentale può fare la differenza in questi momenti, quindi sicuramente anche Rafa ha fatto molto piacere questa situazione. o il 4-2-3-1 c'era anche l'inizio con Romero. Poi, insomma, noi variamo nel senso che prendiamo delle posizioni con la palla e poi dopo ne prendiamo altri senza, in base a un po' come vanno gli avversari, però sono situazioni che... Pulisic mi piacerebbe tantissimo, trequartista, provarlo per un giocatore molto intelligente. Adesso, purtroppo, però la partenza di Cucuvezza magari ci chiude un po' una soluzione in più, però, insomma, vedremo. Vinci. Ciao Stefano, buonasera. Jovic, Leao, i giovani lanciati, il turno superato, tutto ha congiurato in senso positivo. Mi trovi qualcosa di particolare che ti ha fatto soddisfazione in modo particolare e che a noi non... No, no, è andato tutto bene. Siamo partiti un pochettino, un po' così così, ma ci stava perché, insomma, avevamo in campo una squadra, tanti ragazzi giovani, ma poi mi hanno poso in mano la partita, l'abbiamo condotta bene, l'abbiamo condotta con qualità, con lucidità. E quindi, ripeto, tutto positivo, stanno tutti bene, sono allenati chi non ha giocato, chi ha giocato o meno ha giocato. Oggi è una serata positiva che ci permette di pensare alla prossima partita, che ci dovrà permettere di pensare con molta più fiducia, molta più sicurezza di noi stessi. Grazie.